San Giovanni a Piro, Salerno. Mercoledì 24 luglio è ripartita la rassegna culturale Storie in piazza, coordinata da Franco Maldonato, direttore del Polo Museale del Comune di San Giovanni a Piro. Si è iniziato con Bosco Paese Museo, dopo il testo di Salvatore Soprano, Bosco dalle origini ai giorni nostri. Un piccolo paese, una grande storia, poi Biagio Palumbo ha raccontato la vita di un cospiratore cilentano nel volume Luigi Leanza e le barricate di Napoli del 15 maggio 1848. Nel 2018, Palumbo, in occasione del 190esimo anno della rivolta del Cilento del 1828, ha pubblicato Bosco nella rivolta del Cilento del 1828. L'incontro è stato moderato da Franco Maldonato e ha visto i saluti del sindaco Ferdinando Palazzo e del consigliere provinciale Pasquale Sorrentino. Piazza Santa Rosalia, nel cuore di Bosco, ha accolto il folto pubblico aprendo le porte del Museo Ortega fino a sera inoltrata. Appuntamento a domenica 28 luglio con Nunzia Mazzei in solo 10 minuti, prometto ore 21 e 30 Toscario lungomare Marconi.